Oggi 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. L'assessorato alla sicurezza e polizia locale, in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Rovigo e la Commissione Pari Opportunità, hanno organizzato un momento formativo per aiutare le ragazze e le donne ad affrontare quello che può essere un pericolo immediato, come reagire, come comportarsi in caso di pericolo da dover affrontare, con piccole tecniche che possono essere messe in pratica da tutte. Quindi un momento importante per prevenire tutte quelle situazioni di disagio e appunto di potenziale pericolo che possono presentarsi nella vita di tutti i giorni.